analogico analogico digitale o digitale digitale ma io vi posso soltanto dire che questa edizione con in mano di Shakt uscita pochi mesi fa per la Stax è fra le migliori registrazioni al mondo della mitesima per il motivo leggere qua direct metal mastered from digital tapes questo che vuol dire che è una registrazione totalmente digitale per rispondere a quelli che dicono eh ma se io devo comprarmi un vinile che è digitale allora mi prendono un cd e no non funziona così perché c'è digitale e digitale i vinili da GRP ad esempio erano tra i migliori al mondo come qualità audio lo stesso digasi per questa fantastica edizione di Shaft che abbiamo ascoltato assieme anche ad un paio di audiofili che hanno impianti stratosferici e abbiamo avuto la conferma che questa edizione uscita a fine 2020 è una cosa pazzesca fantastica costa un pochino costa un pochino costa come un album normale doppio e soprattutto è un edizione Stax di importazione assolutamente consigliato